Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno, occhio ai giornali di oggi, lunedì 8 marzo, come sempre diamo uno sguardo ai nostri primi appuntamenti che sono il santo del giorno e poi il tempo, il santo di oggi è San Giovanni di Dio, l'alba è alle 6.37, il sole tramonterà 18.07, adesso diamo uno sguardo al tempo. Il tempo cambierà un po' nel corso della mattinata, intorno alle 11, mezzogiorno, le nuvole si faranno vedere più consistenti su tutta la nostra regione, avremo anche precipitazioni diffuse più intense durante il pomeriggio, in particolare nei settori centro-meridionali quando assumeranno carattere di rovescio, mentre per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 9 marzo, ancora cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con attenuazione della nuvolosità a partire da nord nel corso del pomeriggio, le precipitazioni, le piogge diffuse al mattino, persistenti fino a fine giornata, nei settori centro-meridionali dove le cumulate finali risulteranno insomma abbondanti, quindi attenzione alla pioggia nel corso della giornata di oggi e domani, soprattutto nel parte centro-meridionale della nostra regione. Intanto l'inquadratura è per l'aereo dell'Alitalia che appunto riporterà il Papa, Papa Francesco a Roma. Allora, buongiorno, buongiorno, intanto rimaniamo su queste immagini comunque sempre belle, andiamo in dissolvenza tra l'Iraq e le Marche, con questa rassegna stampa che comincia evidentemente con, non nel consueto orario delle 7 del mattino, ma alle 7.40 perché ci seguo in diretta, proprio per consentire il saluto, il congedo del Papa dopo questi giorni, ripeto, così importanti. Adesso andiamo invece a vedere, trattiamo le cose di casa nostra con i giornali e cominciamo con il Corriere Adriatico. Corriere Adriatico che questa mattina titola così, zona rossa appesi al verdetto. E già, perché? Perché le restrizioni che stanno per arrivare anche per la provincia pesarese serviranno per non mandare tutta la regione Marche in zona arancione, o perlomeno quel che resta della regione Marche ancora arancione, vale a dire le province di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo. Restrizioni, dicevamo, per la provincia, i vaccini dopo un summit in regione, salgono i casi sintomatici, Salta Martini dice, decidiamo in base all'incidenza dei positivi, intanto a Marche Nord, 13 nuovi posti letto, terapia intensiva. Lo sport invece trova spazio, come sempre lunedì, sulla pagina del Corriere, Brava Vis che blizza Cesena, successo rotondo, 2-0, pareggia invece il Fano, 1-1 contro la Fermana. Di spalla invece parla pesaresi, isolamento, l'isolamento è quello della nostra regione, delle Marche, ci mancano peso specifico e competenze. Far uscire le Marche dal lungo isolamento, servono competenze ma soprattutto occorre cambiare rotta per superare i gap infrastrutturali che rallentano tutte le possibilità della regione. Dall'alta velocità la banda ultralarga, analisi di Mario Pesaresi che è un imprenditore e presidente della Fondazione Marche e dice mancano appunto, lo andiamo a rivedere, mancano peso specifico e qualità. Poi in breve si ligate residenti in pressing dopo il blocco dei lavori, poi una via intitolata Nassiria, i tempi questa volta ci sono, e da Fano, Terme di Carignano, silenzio da tre mesi, pressing del Comitato. Come vedete il pressing è la parola che ricorre maggiormente questa mattina sulla prima del Corriere. Ferrovia, Fano Urbino invece, riattivazione politicamente fattibile, l'avvocato Venditti dice le condizioni sono diverse per l'infrastruttura, una rinnovata sostenibilità. C'è anche la VL in prima sul Corriere, doccia fredda Cremona, perde 100 a 78, troverete l'articolo nelle pagine dedicata allo sport. Mentre la prima del Carlino di Pesaro è per Valentino Rossi, abbattete la Villa di Vale, una vicina fa causa al campione, oscura la visuale, ma perde e ricorre. Il virus non ci molla, provincia rossa, dati impeggioramento, atteso per oggi l'annuncio della regione, l'ordinanza potrebbe partire da subito. Il sopra luogo alla Torraccia di Pesaro, vaccinazioni di massa, si cercano altri spazi, ecco le condizioni, poi ai Cappuccini invece festa ieri per il ritorno di Padre Marzio per la prima messa dopo il Covid. Da un festival all'altro invece il ROF vuole Fiorello, Fiorello a Torsini Opera Festival, è l'auspicio che si è concretizzato in un invito comparso ieri sulla pagina Facebook della Kermess pesarese. Un accostamento che non deve indispettire i melomani più integralisti, come spiega nel post, e quindi vedremo se Fiorello accetterà questo invito. Il progetto ad apecchio di una megadiga lungo il Candigliano, Rossi e Gambini alzano le barricate e poi la relazione di RFI del 2017 per riattivare la Fanurbino, un'altra legge e servono 80 milioni di euro. La VL è irriconoscibile, crollo a Cremona, vis che colpa Cesena, fanno derby, caos il derby è quello contro la Fermana. Invece di Sporta, con lo Sporta, apre il Carlino di Ancona e la bella notizia di Tamberi che nel salto in alto conquista l'argento. Gimbo sfiora l'impresa agli europei indoor, l'oro gli sfugge per un soffio dopo il sorprendente 2,37 del bielorusso Maxime. Non sono soddisfatto ma non ho rimpianti, dice Gimbo. Generalmente con un 2,35 si arriva al successo. Ma la notizia sicuramente più importante che riguarda praticamente l'intera regione è sempre inerente al coronavirus. Purtroppo c'è anche un caso di variante sudafricana, allerta Marche. Una ragazza di Ascoli ricoverata in terapia intensiva era stata in Svezia. Anche Pesero verso la zona rossa. Allora, entriamo nelle pagine e vediamo un attimo di fare il punto della situazione. Intanto la notizia, come dicevamo in apertura di questa rassegna stampa, la notizia sicuramente più importante è questa. Che la provincia di Pesorbino con ogni probabilità, salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto, va verso la zona rossa. Da quando? Da subito. Il tempo tecnico di far entrare in campo l'ordinanza. Quindi vaccini e terza zona rossa, doppio summit in regione, oggi il verdetto per Pesero. L'incidenza del virus nelle Marche supera i 344 casi ogni 100 mila abitanti. Salta Martini dice una settimana per cercare di frenare l'aumento dei contagi. Vedremo se questo lockdown, questa zona rossa per la provincia sarà di una settimana, oppure durerà ancora. Ma considerando un po' come stanno andando le cose in provincia di Ancona, che è la seconda settimana, così come macerate, insomma, la vedo un po' più lunga. Arrivano intanto 11 mila dosi Pfizer, già vaccinate 949 persone fragili, in giunta l'accordo per la profilassi in aziende e associazioni. Intanto andiamo pure, Riccardo, mentre facciamo vedere l'aereo del Papa che riparte dall'aeroporto di Baghdad. Dunque, terapie intensive, purtroppo le terapie intensive sono un po' al collasso. Il virus occupa il 42% dei letti che sono a disposizione della nostra regione, anche se poi Marche Nord, che va come un treno rispetto alle altre parti della regione, insomma, aumenterà ancora di più questi posti letto. Ma aumentano anche i casi sintomatici, coloro che hanno i sintomi sono sempre di più. Le Marche sono al terzo posto, pensate, in Italia per contagi rispetto alla popolazione. Per quanto riguarda invece Covid Hotel, c'è la polemica, perché Covid Hotel, sapete, erano 10, ma ne è aperto 10 in tutta la regione Marche, però ne sono aperti praticamente soltanto uno. Mastro Vincenzo, che è il consigliere del Partito Democratico, parla di aumenti di casi in famiglia, e quindi c'è la necessità di avere a disposizione qualche albergo in più. Lo andiamo a vedere qua nel Corriere Adriatico, vedete, qualche albergo in più, perché quando i contagi sono in famiglia e magari si vive in case piccole, in ambienti ristretti, è necessario che questa persona vada in isolamento per non contagiare il resto della famiglia. E quindi, giustamente, che fine hanno fatto, si domanda Mastro Vincenzo, i Covid Hotel nelle Marche? Alla luce dell'aumento dei contagi in tutta la regione, sono centinaia di nuovi casi di contagi che avvengono in ambiente domestico, con numeri anche in questo caso in continua crescita. Da pagina 3 del Carlino nazionale si parla di terza ondata. Ora, siamo in una fase in cui, come vedete, c'è l'aumento, toccheremo il picco il 21 di marzo, secondo chi studia i dati, chi studia i numeri, le vittime però saliranno ancora fino all'inizio di aprile. Sono le previsioni di studi americani e italiani che coincidono per quanto riguarda il nostro Paese. A giugno, questa è l'unica buona notizia, ma questo ve lo stiamo dicendo ormai da qualche settimana senza aspettare gli studi perché ci è bastato già la prima ondata. A giugno l'epidemia del coronavirus sarà quasi sparita. C'è sempre quel quasi, però sarà quasi sparita. E questo l'abbiamo già visto anche lo scorso giugno, l'anno scorso. Quindi in questo articolo si parla praticamente di cosa avverrà come previsioni dal punto di vista prettamente scientifico, perché comunque quando parliamo di numeri parliamo di previsioni, non parliamo di vaticigli così buttati a casaccio. L'Istituto Superiore di Sanità, tra l'altro, evidenzia un trend a ribasso dei nuovi contagi fra sanitari e anziani delle case di riposo. Questo ovviamente è merito dei vaccini. Ecco perché in altri Paesi, per esempio come abbiamo visto Israele piuttosto che gli Stati Uniti, dove si è vaccinata ormai la stragrande maggioranza della popolazione, il problema del Covid è ormai quasi alle spalle. A pagina 4 invece del resto del Carlino, impennata di ricoveri, riparti al collasso, speranza, il ministro dice AstraZeneca, agli over 65, il siero di Oxford sarà somministrato fino ai 79 anni, quindi vedete non più 65, tutti gli italiani vaccinati entro l'estate, nessun pregiudizio invece su Sputnik, che è il vaccino russo. Negli ultimi giorni somministrate 180 mila vaccinazioni quotidiane, cresceranno ancora, mentre Di Maio chiede misure più rigide. Verso la zona rossa, il sacrificio di Pesaro, così tentiamo di salvare il resto delle marche, questo è il titolo, pagina 2 del Carlino di Pesaro, sono numeri impietosi, quelli che decreteranno oggi la chiusura della provincia pesarese, evitando forse la stessa sorte per Fermo e Dascoli, il Paso dice è la rovina. Allora, qui noi abbiamo parlato di dati, cari telespettatori, abbiamo visto i dati, l'RT, l'indice di contagio che aumenta, eccetera, qui mancherebbe un dato, sono un po' polemico ma stiamo commentando e sono convinto che qualcuno la penserà un po' come me, manca il dato del QI, cioè abbiamo l'RT che è l'indice di contagio, manca il QI in queste indagini, in questi numeri, bisognerebbe affrontare questa cosa, chiaramente so che non è fattibile, la sto buttando un po' così sulla polemica, ma il QI è il quoziente intelligente, intellettivo delle persone, perché? Perché quando sale l'RT scende il QI, quando sale il QI scende l'RT, pensiamoci. In questo momento l'RT sale e il quoziente di intelligenza della gente è evidentemente al minimo storico, perché lo ripetiamo sempre, quando i casi, i contagio aumentano, la colpa non è del virus, lo ricordiamo ancora, la colpa è solo nostra. Verso la zona rossa, l'abbiamo detto, allora andiamo a vedere, ecco qui c'è l'altra notizia invece sul, sempre sul resto del Carlino, ecco sulla questione degli screening a scuola a Pesaro, sono stati completati anche la settimana scorsa, insomma è andata bene, 3.000 mi pare il numero, forse 3.000 persone che si sono sottoposte al test antigenico rapido, sono venuti fuori credo 14 positivi, qualche polemica l'ha suscitata, perché chiaramente finiamo in zona rossa comunque, quindi qualcuno si domanda che cosa è servito, era solo una mossa politica del sindaco di Pesaro che ha voluto fare o forzare la mano rispetto alla regione, che gli aveva sempre detto no, non si possono fare questi screening a scuola. Ebbene, l'assessore Mila della Dora, della giunta di Ricci, replica alla Lega, screening a scuola giusto e da ripetere, quindi fuoco incrociato tra la Lega che ieri ha accusato il sindaco Ricci di giocare a fare il piccolo virologo e l'amministrazione stessa che oggi replica per le rime attraverso l'assessore alla coesione Mila della Dora, che invece parla di indifendibile gestione altalenante della pandemia da parte della regione Marche. Don Marzio, padre Marzio, insomma Cappuccino, prima messa dopo il Covid, siamo sempre sul Carlino, commoziona la parrocchia dei Cappuccini che ha ritrovato ieri il suo padre spirituale e dice, racconta, è stata dura, prima all'ospedale San Salvatore per 8-9 giorni, poi nella mia camera del convento, sono riuscito a guarirmi dalla polmonite dovuto al coronavirus, l'importante è esserci rivisti, anche grazie alle vostre preghiere che mi hanno sostenuto e mi sostengono del vostro, e grazie del vostro sincero affetto, scrive Luigi Di Ottallevi, questa mattina raccontando questi momenti durante la celebrazione alla parrocchia dei Cappuccino, vedete padre Marzio qua, riconoscebilissimo, insomma un po' affaticato dopo due mesi anzi di combattimento contro il virus e ieri alle 11.45 ha ufficiato di nuovo la Santa Messa. Poi ha detto padre Marzio, ha parlato e ha fatto gli auguri anche alle donne per la festa delle donne, ecco è importante soltanto questo passo che condivido tantissimo, non dovete dimostrare niente a nessuno, siete donne e siate fiere di esserlo con tutte le vostre caratteristiche e potenzialità. La vostra grandezza non sta nell'essere come l'uomo ed imitare l'uomo, sta nel vostro essere donna in tutto. Infatti non abbiamo bisogno di donne uomo, abbiamo bisogno di donne vere. Nelle Marche invece siamo sul carino di Alcora, la variante sudafricana fa paura, è arrivata in regione e ora una ragazza di Ascoli è ricoverata in terapia intensiva, era tornata dalla Svezia dove si era recata per lavoro e dunque, scrive Sara Ferreri, è approdata nelle Marche la variante sudafricana del Covid-19. Ora, senza fare troppi allarmismi, perché già ne abbiamo fatti tantissimi in questo anno di pandemia, rispetto ai colleghi che hanno gestito l'informazione in altri paesi, evidentemente con più sale nella zucca, e in questo ci mettiamo anche noi, perché tanto alla fine facciamo parte dello stesso carrozzone, dello stesso circo mediatico italiano, insomma, non deve far paura, o meglio, fa paura perché è così, ma la variante, così come tutte le varianti, ce ne sono un'infinità di varianti. Il virus, abbiamo detto più volte, cambia, si adatta, vede che c'è una lotta tra lui e l'uomo, perché l'uomo cerca di difendersi soprattutto con i vaccini, per sopravvivere il virus cosa deve fare? Deve trovare soluzioni e trovando soluzioni cambia armatura, cambia un pochettino, si adegua, si adatta e quindi varia. E ecco la variante. Ora, questa variante sudafricana fa paura, sì, fa paura, vediamo se fa paura, nel senso, stiamo con i piedi per terra, certamente bisogna stare con i piedi per terra, ma soprattutto anche distanti, perché è l'unico modo anche per la variante sudafricana di starsene alla larga, di non essere infettati. Saltamartini però dà questa buona notizia sul Carlino di Macerata. In arrivo ci sono 11.000 dosi di Pfizer, che è il vaccino, l'assessore parla anche di AstraZeneca, che praticamente con questo via libera del Ministero, per tutte le fasce d'età, nelle Marche sono state vaccinate 949 persone fragili. Questo è un altro dato molto importante. Moltissime richieste ci si potrà prenotare appena arriveranno nuove dosi di siero. Sulla Fanurbino invece, cambiamo argomento, servono 80 milioni. Una lettera di tre anni fa è stata rispolverata da Roberto Damiani del Carlino, in una lettera di tre anni fa, di RFI alla Regione Marche, chiariva il costo per un'ipotetica riapertura della linea. Qui c'è il tracciato, vedete, che anzi parte da qua, parte da Fano, vedete, fa tutta questa strada, arriva fino a Fossombrone, poi Canavaccio e arriva fino a Urbino. Certo, il paesaggio è davvero mozzafiato, riattivare una ferrovia di questo genere, soprattutto per scopi turistici, perché qualcuno mi ricordava in un messaggio che mi è arrivato l'altro giorno, diceva, guardate, io sono stato uno dei fruitori, forse uno degli ultimi fruitori della Fano Urbino quando ancora era in attività. Sulle carrozze eravamo in tutto il treno, 10 persone ogni volta, quindi veramente se è stata chiusa evidentemente non c'era molto da guadagnarci, come dire. però un discorso invece turistico, secondo me, che poi chiaramente è turistico fino a un certo punto, perché quando c'è un treno uno poi lo può usare anche per andare a lavorare, però turistico, con quello scopo, sicuramente potrebbe essere una bella iniziativa. Però ripeto, 80 milioni sono 80 milioni. Colpo grosso, Estasi Visse invece, siamo allo sport, siamo ormai in chiusura della nostra rassegna stampa, dopo l'exploit dello scorso anno, ecco il bis a Cesena, tre punti che riportano i biancorossi a più quattro, Di Paola con una perla sblocca il risultato in avvio di seconda frazione, nel finale Nava lo mette al sicuro, dunque Cesena che perde in casa contro la Vispesero per 2 a 0. Poi c'è stato il derby invece del Fano contro la Fermana, andiamo a vedere la pagina, non ce l'ho la pagina, è saltata da qualche parte, vabbè comunque Fermana-Fano 1 a 1, mi dispiace non farvi vedere la pagina dell'Alma, era stata selezionata, ma evidentemente è rimasta indietro da qualche parte. Comunque il derby 1 a 1 Fano-Fermana, mentre la Vuel in Ciampa, falsa partenza dopo il lungo stop, 100 a 78, questo è il risultato finale, Cremona più rodata e più pronta. Prima di salutarci, mentre andiamo a vedere, c'è ancora il segnale internazionale del... No, è finito? Bene, quindi il Papa è in volo. Allora, stasera abbiamo due appuntamenti interessanti, non ci sarà Primo Cittadino, perché daremo spazio ad una iniziativa, una produzione di Fano TV, in collaborazione con il Comune di Colli al Metauro, uno speciale per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal titolo 8 marzo, Donne, Arte e Territorio. È un'idea appunto, da un'idea del Comune di Colli al Metauro. A seguire, dopo questo speciale invece, c'è un approfondimento in studio con l'assessore alle pare opportunità. Io non dirò mai assessora. Tu lo so che l'hai voluto sottolineare, Riccardo, con la A finale. Io dirò assessore, perché mi piace di più. Poi, se volete assessora, fate come vi pare. L'assessore alle pare opportunità, Sara Cucchiarini, e con la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gian Marioli. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata, ci vediamo stasera alle 20.30, però con il telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci.